buongiorno a tutti io sono valeria e oggi vi parlerò dell'applicazione linoid allora linoid è un applicativo online gratuito che consente di realizzare bacheche in cui è possibile inserire note testo immagini link video eccetera gli strumenti messi a disposizione rendono questa vacheca estremamente versatile e divertente da utilizzare adatta docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado inoltre l'applicazione è disponibile in lingua inglese giapponese coreano e cinese per utilizzare linoid è necessario registrare un account una volta registrati è possibile creare un numero infinito di posti adesso andiamo su sinop per fare la registrazione però siccome io sono già registrata andiamo subito su login una volta effettuato il login si aprirà questo primo schermo dove usciranno tutte le bacheche creati i gruppi con che si condividono i lavori e l'opzione di creare nuove bacheche andiamo su creare a new create a new canvas e appare questo schermo qua dove usciranno alcune impostazioni per quanto riguarda la privacy la personalizzazione e la condivisione della bacheca come mostrato in questo schermo qui inoltre linoid ci dalla possibilità di rendere la propria bacheca pubblica o privata se si sceglie di rendere una bacheca pubblica altri utenti possono vedere posti oltre a leggere tutte le note inserite in questa opzione qua possiamo prendere la nostra bacheca pubblica o privata possiamo aggiungere un nome alla bacheca possiamo anche cambiare lo sfondo della bacheca possiamo aggiungere questi colori qui di sfondo o possiamo anche aggiungere un'immagine dal nostro computer però io adesso vi faccio vedere la mia bacheca che sarebbe questa qua allora sopra a destra nella sezione iniziale abbiamo pochi essenziali strumenti per poter appuntare le note e aggiungere immagini video file eccetera sotto possiamo anche trovare anche un calendario in quale possiamo inserire date di scadenza le note e file inserite sulla bacheca aggiungiamo un nuovo posti per farvi vedere che a differenza di alcuni analoghi servizi posti linoid consente di modificare la dimensione il colore del font possiamo scrivere sul post aggiungere anche dei tag cambiare il colore del font e cambiare anche il colore del post e lo possiamo aggiungere qui vediamo che possiamo anche muovere gli altri post possiamo anche farli più grandi così più piccoli possiamo anche girarli dove vogliamo noi inoltre sotto a destra c'è uno schermo qui che ci fa girare per tutta la nostra bacheca per continuare a riempirla da post possiamo aggiungere anche dell'immagine come detto prima e possiamo aggiungere anche dei documenti che è molto interessante possiamo aggiungere dei documenti file per esempio questo qua è il mio sito web html che l'ho aggiunto anche nella mia bacheca e questo è tutto grazie mille grazie a